La montagna ha partorito il topolino, lo dice Ignazio Giudice, segretario provinciale della CGL. Vista l'irrilevante entità delle misure annunciate ieri, dice Giudice, ci chiediamo se le parti hanno minimamente guardato i documenti rivendicativi approvati dal Consiglio Comunale di Gela e dalle parti sociali riunite lunedì a Roma. A noi, dice Giudice, sembra di no e per questo annunciamo la prosecuzione dei presidi. I commercianti, gli studenti, i lavoratori, i disoccupati e chi più ne ha più ne metta non hanno manifestato per ottenere tre mesi di cassa interazione pagati fra due anni, hanno manifestato per l'avvio subito delle bonifiche e del lavoro. Il risultato di ieri è deludente sotto questo aspetto e noi in queste ore come sindacati unitariamente stiamo valutando le azioni di impegno, di lotta da mettere in gambo a partire da stasera. Chiediamo, continua Giudice, pari dignità rispetto ad altre vertenze industriali, se il governo ha approvato un decreto per l'ILVA di Taranto, ci chiediamo perché non sia possibile un decreto per l'ENI di Gela. Questo è evidente e la politica a tutti i livelli, a partire dal governatore Crocetto, dovrebbe chiedersi perché. Forse i governi non sono così pesanti come il governo di altre parti d'Italia e questo è un problema serio che coinvolge Montelomoro, coinvolge la nostra città e per questo chiediamo equità e giustizia al governo nazionale. Stasera decideremo quanto articolare di più e meglio i presidi e lo decideremo unitariamente. Di certi lavoratori non sono contenti di ciò che è stato generato dall'incontro di ieri al Ministero.